Mercoledì 22 marzo, una buona serata dalla redazione di Prealpina.it. Apriamo questa edizione del notiziario con la cronaca. Tragedia al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, dove un uomo di 76 anni è morto dopo essersi schiantato, probabilmente inseguito a un malore all'interno del parcheggio. È successo questa mattina, poco dopo le 9, quando l'autocondotta dall'anziano ha improvvisamente preso velocità ed è andata a sbattere contro un'altra vettura in sosta. Tutto sarebbe stato causato appunto da un valore dell'uomo che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e ricoverato al pronto soccorso, dove purtroppo, poco dopo, ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Uno sguardo al meteo dopo un inizio di primavera con temperature superiori alla media stagionale, le previsioni del tempo fanno intravedere se non altro un momento di respiro dalla siccità che caratterizza l'ultimo periodo. Secondo gli esperti, infatti, una forte perturbazione in arriva nel weekend anche sul Varesotto, con precipitazioni previste, in particolare domenica 26. Pioggia che però non dovrebbe essere in grado di creare una reale inversione di tendenza, una beffa insomma per la nostra provincia. E sempre in tema di siccità, ricordando che oggi è la giornata mondiale dell'acqua, un fenomeno particolare causato quasi certamente dal crollo delle precipitazioni, la crisi degli ombrelli, sempre meno venduti e regalati, ce ne parla Pasquale Martinoli. Cocchi e Renato cantavano che la vita l'è bella, basta avere l'ombrella. Oggi avere l'ombrello non serve più. L'assenza di piogge ha messo all'angolo questo accessorio che è un'eccellenza di stile e manifattura del Made in Italy. I dati sono impietosi, dai 423.767 ombrelli venduti nel 2018, si è passati in Italia ai 78.930 del 2021 e lo scorso anno è andato ancora peggio. Non piove, non si vendono ombrelli e l'equazione che arriva dalla valigeria Bosoni, una delle attività storiche di vendita di ombrelli nel cuore di Varese. Tutta colpa della siccità dunque che minaccia di avere anche pesanti ripercussioni sulla fornitura idrica. Per questo oggi, nella giornata mondiale dell'acqua, è stato lanciato un appello contro gli spirechi e su questo non ci piove. Anche nel vicino Piemonte la crisi idrica è più che mai un problema. Un esempio, il Parco dei Lagoni di Arona, che ha già perso il 50% della sua superficie d'acqua. Il servizio di Maurizio Roberto. Il Parco dei Lagoni di Arona è in agonia a causa della siccità. Il Parco dei Lagoni, area naturale protetta dal 1980 e sito unesco dal 2011, culla della civiltà palapiticola del nord Italia, rischia di diventare il Parco degli ex Lagoni. Risulta infatti drammatica la situazione del più grande dei laghi del Parco, detto Lagone, meta di turisti e di appassionati della natura. Il lagone ha già perso il quasi 50% del suo bacino idrico. Ora, dove fino a pochi mesi fa c'era l'acqua, ci sono solo sterpaglie e fanghiglia e anche la fauna si ha sottiliata. È la riprova dei cambiamenti climatici anche nel nostro territorio, spiega Roberto Signorelli, vicepresidente del circolo di lega ambiente Basso Lago Maggiore. I lagoni infatti, fino a pochi anni or sono, erano la meta in venare dei pattinatori, in quanto già da dicembre fino a febbraio erano coperti da una spessa colte di ghiaccio. Già da qualche tempo però, a caso dell'inverno più umite, non si formava più la colta bianca, ma c'erano le piogge ed alimentare l'aria. Ora la perdurante siccità ha reso il lagone un acquitrino, mentre i fratelli più piccoli del lagone che costellavano la zona umida del sito sono già spariti, come pure i corsi di acqua che lo alimentavano. Notte di fuoco nei boschi intorno a Tradate. È andata in fiamme una barca del misterioso rogo. Ci parla Luca Spriano. Misterioso incendio nella notte traiere e oggi a Tradate, in una zona boschiva a ridosso di Via del Carso. Ad andare a fuoco è stata una barca che era stata depositata nella zona. L'allarme è scattato attorno alle tre e mezza. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Tradatese. Giunti sul posto i pompieri hanno sollecitamente domato il rogo. L'imbarcazione era ormai andata in fumo, ma l'intervento dei pompieri è stato decisivo per evitare che le fiamme si propagassero nell'area circostante. I vigili del fuoco, una volta spento l'incendio, hanno messo in sicurezza la zona. Dieci anni fa, nel 2013, fu insignito del titolo di giusto tra le nazioni. Oggi, a Parazzo Estense, il prefetto Salvatore Pasquariello ha consegnato la medaglia d'oro al merito civile, il ricordo di Calogero Marrone. Lo schindler di Varese, Elisa Petrocelli, ripercorre la cerimonia con le immagini dell'agenzia Blitz. Il giusto Calogero Marrone premiato nella sua Varese. Nella sua semplicità ha saputo salvare tante vite umane. Così questa mattina, mercoledì 22 marzo, il sindaco Davide Galimberti ha ricordato Marrone, lo schlinder Varesino, capo dell'ufficio anagrafe a Palazzo Estense, che fu deportato a Dachau dove morì. È stato consegnato ai familiari dell'eroe Varesino la medaglia d'oro al merito civile della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta nel Salone Estense. È stato il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, a conferire la medaglia. Oltre ai Galimberti, hanno parlato il prefetto Pasquariello, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, lo storico Franco Gian Antoni e Antonio Palumbo, il sindaco di Favara, il paese dell'agrigentino di cui Marrone era originario. A Calogero Marrone nel 2013 è stato assegnato il titolo di Giusto tra le Nazioni. Entrata nel vivo questa mattina la Varese Design Week. Ecco il servizio. Entra nel vivo la Varese Design Week che fino a domenica sboccia insieme alla primavera con un'edizione all'insegna della natura tra fiori, alberi e legno che invadono le piazze della città con l'idea di migliorare l'arredo urbano. Un messaggio partito stamani da Piazza Montegrappa con l'inaugurazione insieme alle organizzatrici Nicoletta Romano e Silvana Barbato, con il vice sindaco di Varese Ivana Perusina e l'assessore ai servizi educativi Rossella Di Maggio. In Piazza San Vittore si ammira la casa aperta, in Piazza Podestà, il cuore in legno. Attorno alla fontana di Piazza Montegrappa ecco l'allestimento floreale con l'omaggio al Parco Campo dei Fiori grazie alle fioriere scavate nei tronchi degli alberi abbattuti dalla tempesta di vento di due anni fa. Il programma prosegue domani con quattro appuntamenti. Alle 15 a Varese Vive il talk Biomat Canapa, alle 16 all'Insubria la conferenza di Mario Boselli dell'architetto Carlo Rampazzi. Alle 18.30 ritorno a Varese Vive con la tavola rotonda su Flaminio Bertoni, dove si parlerà anche della contraffazione dei prodotti di design. Alle 20 cocktail green al Broletto di Via Veratti. Andiamo ora a Busto Arsizio. C'è soddisfazione tra i responsabili della San Vincenzo Cittadina. Dopo la consegna all'associazione della casa tolta alla mafia, Francesco Iguscio ha intervistato per noi, Silvana Fiori. Abbiamo avuto così l'opportunità di partecipare al bando e anche di vederci assegnato questi locali che destiniamo a una formazione specializzata grazie alla partnership che abbiamo instaurato con gli imprenditori della zona che hanno risposto alla nostra sollecitazione. È un'opportunità per chi ne beneficerà in futuro magari come posto di lavoro ed è comunque un fatto positivo anche per tutta la comunità. Chiusura con lo sport. Semifinali dell'Hockey su ghiaccio, serie sull'1-1 dopo il successo casalingo dei Mastini e la replica del Pergine in Trentino. Domani sera alla 5 Ice Arena, gara 3 con Varese che tenterà di fare un passo fondamentale verso la finale. Le immagini di Agenzia Blitz e il servizio è di Matteo Floccavi. È quasi tempo di tornare nuovamente in pista per i Mastini che domani, giovedì, saranno impegnati alla 5 Ice Arena contro il Pergine per gara 3 di semifinale. Una partita importantissima nell'economia di una serie che adesso è sull'1-1 dopo la rimonta vincente dei Trentini di martedì in gara 2. Varese che ha avuto delle enormi possibilità di chiudere la gara e verosimilmente anche il duello della serie, visto che si gioca al meglio delle 5 partite. Quindi con un successo i gialloneri sarebbero portati sul 2-0, invece avanti 3-0 e 4-1. Sono fatti riprendere sul 4-4 per una po' di cedere all'overtime. Comunque la squadra di Devesa ha tutta l'esperienza e tutta la grinta necessaria per ripartire. Biglietti per il Palabani che stanno andando a ruba, quindi ci si aspetta ancora una volta una grandissima spinta da parte del muro di tifosi gialloneri per sostenere i Mastini in quella che può essere la gara più importante della serie, questa terza sfida che andrà poi a decidere chi sabato nella quarta gara avrà il primo match point per andare in finale. Con questo è tutto, vi diamo l'appuntamento domani sempre alle 19 e vi auguriamo una buona serata.